Oggi con Giuseppe siamo davanti all'ex caserma Valfree nell'ingresso di via Montebello della Battaglia destinata a Hotspot Drive Thru dove possono venire effettuati circa 300 tamponi al giorno. La conformazione dell'ex caserma Valfree garantisce un accesso e un'uscita a chi voglia sottoporsi al cosiddetto tampone rapido. Da martedì infatti, seguendo un percorso che parte da Spalto Gamondio, è possibile prenotare la visita richiedendo l'appuntamento al proprio medico curante. Le macchine arrivano in questa zona e vengono identificate e poi si portano in prossimità della postazione di prelievo dove personale sanitario, in particolare infermieri dell'esercito, provvedono al prelievo di un tampone. Stiamo parlando di tamponi rapidi a lettura manuale. Siamo attivi in questo momento dalle 8 alle 13 e 30. Abbiamo una potenzialità in questo momento di 130-150 tamponi al giorno. Raddoppiando il personale infermieristico potremo arrivare anche ad effettuare 300 tamponi al giorno. Una volta effettuato il tampone si attende 15 minuti in attesa di ricevere negli ultimi box un esito che può essere positivo o negativo, a cui segue poi una procedura. Esattamente, i tempi di attesa come hai detto sono di circa 15-20 minuti, dopodiché i risultati possono essere negativi, a questo punto l'utente procede verso l'uscita senza alcun tipo di problema. Nel caso di positività ci possono essere due tipi di percorsi diversi. Nel caso esista la presenza di un link, il positivo può uscire e si comporterà seguendo le indicazioni del medico o comunque delle autorità sanitarie. In assenza di link, invece, l'utente viene reindirizzato nuovamente ad un prelievo, in questo caso non di un tampone rapido, ma di un tampone molecolare. Ma la novità è un'altra. Da marzo la caserma potrebbe diventare il primo punto di vaccinazione con modalità drive-in della regione Piemonte. Ad annunciare all'assessore all'ambiente Matteo Marnati che ha incaricato Arpa Piemonte di vedere come sarà possibile organizzarne la distribuzione. Questa struttura potrebbe funzionare un domani per effettuare la vaccinazione dei cittadini? Ma in questo momento non sono in grado di dare una precisa risposta. Diciamo che l'area è sufficientemente ampia probabilmente per poterla organizzare in termini di logistica, per effettuare eventualmente i vaccini laddove i vaccini potessero essere effettuati magari anche da personale dell'esercito e quant'altro. Sicuramente l'area è sufficientemente ampia. Chiaramente bisognerebbe probabilmente cambiare qualche struttura, aggiungere qualche struttura per renderlo compatibile con il discorso della vaccinazione.